Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna ci sono 2 km di coda per un incidente avvenuto al km 340 tra Arezzo e Valdarno. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze-Scandici e Firenze-Bruneta e code a tratti per il traffico intenso tra Firenze-Sud e Valdarno. Spostandoci sulla FIPILI per lavori, rallentamenti tra Empoli e Montelupo-Fiorentino in direzione Firenze e tra Ginestra-Fiorentina e Montelupo in direzione Livorno. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!